finalmente dopo tanta attesa e tanto lavoro da parte di tutti i paesi si va in scena il carnevale momento di festa tradizionale la cosa bella e importante proprio che questo carnevale ha riunito la montagna ha fatto incontrare ha dato vitalità a una realtà che per certi versi si sente a volte un po abbandonata invece in questo modo si vitalizza un po tutto e la partecipazione corale è davvero qualcosa che fa piacere si riparte il carnevale che ha un fortissimo valore simbolico nel senso che questa è la festa che prelude alle attività estive dell'anno prossimo per le quali ci stiamo già preparando e è un bel momento di ripartenza anche dopo la pandemia ricordo che il carnevale purtroppo per quel motivo si era interrotto in corrispondenza con il carnevale dell'anno 2020 è stato l'ultimo e quindi oggi riprendiamo questa attività e ovviamente mi corre l'obbligo di fare un grande ringraziamento a tutti gli organizzatori al comitato parrocchiale per le feste di san marcello in primis e ovviamente a tutte le frazioni che ci hanno messo tanto tanto dell'oro per garantire una partenza all'altezza della situazione. Questa sana competizione ha visto prevalere il carro del paese di Maresca secondo classificato il paese di Pian degli Ontani e terzo classificato il paese di Gaviana finalmente sì dai quest'anno finalmente ci è toccato il primo posto tantissimo però è stato bellissimo siamo un gruppo fantastico Maresca è meravigliosa bene stiamo contentissimi grazie 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 a tutti grazie